La vera immortalità, forse, è continuare a vivere nel ricordo degli altri, l'aver lasciato una scia non fine a se stessa. E magari da questa scia creare un qualcosa che migliori le condizioni di vita di chi si trova nelle sabbie mobili di una malattia ancora oscura. Forse è proprio tutto questo che dà il coraggio di andare avanti a chi ha amato Federico Luzzi, il tennista retino stroncato da una leucemia fulminante, nell'ottobre del 2008. Dopo la sua tragica scomparsa, i familiari avevano deciso di fare qualcosa di concreto per aiutare altri malati. Nacque così Fedelux, un'associazione nata per ricordarlo e per sostenere l'AIL, l'associazione per la ricerca contro le leucemie. E proprio attraverso una raccolta fondi, la seda retina dell'AIL, intitolata proprio a Federico, ha potuto in questi giorni inaugurare il servizio cure domiciliari, con particolare attenzione ai piccoli pazienti. Sotto un certo punto di vista devo dire che sono felice, anche se usare la parola felice è un pochino, mi resta sempre difficile voglio dire, ma insomma penso che questo sia il miglior modo per ricordare Federico, sicuramente è questo, anche se tutte le volte che io riparlo di questo è un po' di nostalgia, un po' di, un minimo di nostalgia mi viene. Comunque oggi siamo contenti, ce l'abbiamo fatta e ci ha voluto non meno poi tanto, ma ancora il suo mondo, anche Arezzo gli sta molto vicino, devo dire, in questo sforzo. E approfitto per dire aiutateci perché lo sforzo ce ne vorrà tanto ancora e lo sforzo che poi sarebbero in pratica un po' di volontariato e un po' di soldi, tutto qua.